Dopo i primi tre mesi dell'anno con un vero tracollo per il settore, il secondo trimestre del 2014 ha portato qualche segnale di inversione nella tendenza negativa che si sta registrando per il turismo anche a Pistoia. Tra aprile e giugno, secondo dati elaborati e diffusi dalla provincia, il sistema complessivo si è avvalso di un apporto definito significativo di Montecatini Terme, il comune che più pesa per le sorti del turismo pistoiese. L'osservatorio provinciale sintetizza la situazione, valutando per il movimento nel periodo in questione risultati moderatamente positivi per arrivi e presenze, con stabilità per l'alberghiero e un deciso aumento per la ricezione extraalberghiera. Sul fronte dell'analisi per aree territoriali si rilevano l'ottima performance dei quadranti montano e metropolitano, una situazione stabile per la Val de Nievole e una flessione di arrivi, con incremento invece di presenze per il Monte Albano. Dati che in generale vedono una flessione dei turisti provenienti dai confini nazionali e un aumento di quelli che invece sono di provenienza estera. In particolare a Montecatini, che resta il punto di riferimento fondamentale per il settore, i mesi da aprile a giugno si sono chiusi, con un aumento dell'1,4% negli arrivi e dello 0,2% per le presenze. Fate le debite e proporzioni sul fronte delle cifre assolute, il segno più per il quadrante metropolitano è dovuto principalmente alle buone performance di Pistoia, più 11,8% di arrivi e presenza più 1,1% e Serravalle, dove il dato tra arrivi e presenza è rispettivamente del più 3,4% e del più 16,4%. In montagna Fadattraino è stato il comune di Cutigliano, dove l'incremento degli arrivi ha superato il 30% e quello delle presenze sfiora i 39%. Di rilievo anche l'aumento per abetone con arrivi e presenze a più 48,5% e a più 26,4%. Dati che si spera avvino in versioni di tendenze e che sono principalmente legati al mese di aprile. In generale nei primi sei mesi dell'anno le presenze straniere sono state 671.000 e quelle italiane in ulteriore calo si attestano a 362.000. Per gli stranieri diminuiscono gli arrivi da Germania, Russia, Stati Uniti e Regno Unito, mentre aumentano i turisti di provenienza francese e olandese.